In occasione della giornata di commemorazione dei defunti, il 2 novembre, il Presidente del Consiglio regionale ha partecipato in rappresentanza dell'Assemblea legislativa alla cerimonia in ricordo di tutti i militari morti in Italia e all'estero nell'adempimento del loro lavoro. La cerimonia, durante la quale è stata deposta una corona di alloro, si è svolta in piazza d'armi a Torino, davanti al monumento ai martiri di Nassiria, alla presenza delle autorità militari, civili e religiose della città.